Manifestazione degli studenti in piazza 20 settembre a Fano per dire no alla guerra, tra loro anche una piccola delegazione dell'Ucraina. Prezzi del gasolio alle stelle, pescherecci in difficoltà, proteste da Fano a Civitanova, preoccupazione sempre più crescente tra i consumatori. La gente acquista ugualmente? Poco, molto poco, infatti questa settimana c'è stato tanto tanto calo. Piste ancora aperte sul Monte Nerone in provincia di Pesaro Urbino, per gli appassionati sarà un fine settimana da trascorrere sugli sci. Per una bella zona del sole va più che bene. E quando si può. Dal 15 marzo nelle Marche inizierà lo switch off, Fano TV trasmetterà sul nuovo canale il 19. Per vedere la TV digitale però bisognerà rifare la sintonia dei canali. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Bentornati cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a tutti. Allora, cominciamo con la notizia della tragica scomparsa di Daniele Tagliolini, ex vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino. Aveva solo i 44 anni. Vediamo. È morto all'età di 44 anni Daniele Tagliolini, presidente della Marche Multiservizi ed ex presidente della provincia di Pesaro Urbino. Della scorsa estate lottava contro un tumore allo stomaco. Natto a Sasso Corvaro il 22 ottobre del 1977, ha ricoperto diversi ruoli nel suo percorso, tra i tanti sindaco di Peglio nel 2004 per ben tre mandati, dal 2014 portavoce nazionale di Lega Ambiente per i comuni rinnovabili e da aprile dello stesso anno presidente dell'Ato. Ma sono tanti, ancora tanti, gli obiettivi che Tagliolini ha susseguito e raggiunto, grazie anche alla sua grande esperienza, dedizione e tenacia. Nonostante la malattia, era sempre al lavoro e al servizio per il territorio. In tanti, sul suo profilo social, lo hanno voluto ricordare per la sua bravura, per il suo impegno. Tanto lo sgomento tra amici, parenti e il mondo politico. Tra i tanti sindaci, a ricordarlo, il primo è stato quello di Pesaro Matteo Ricci, che lo ha descritto come un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e interessato solo alla sua terra. Una persona sempre positiva e soprattutto uno di quegli amici che ti coprono sempre le spalle in tutte le circostanze. Nel sito della provincia c'è ancora la pagina dedicata a lui, con una delle sue diciture chiave. Non è importante chi fa gol o che opera si realizza. Quello che conta è giocare di squadra ed avere tutti un obiettivo comune. Tagliolini lascia la moglie Giovanna e i suoi due figli. Una breve di cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 lungo la Flaminia. Fanno per un incendio di materiale vario posto all'esterno di un'attività commerciale su alcuni pallet. La squadra ha prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto presenti anche la polizia e i vigili urbani. 700 studenti si sono incontrati questa mattina in piazza 20 Settembre per dire no alla guerra. Partecipare anche una piccola delegazione dall'Ucraina. Sosteniamo la pace, no alla guerra. Guerra, no grazie, vogliamo la pace. Sono questi alcuni dei tanti striscioni che oggi hanno campeggiato in piazza 20 Settembre insieme alle bandiere blu e gialle dell'Ucraina. Nonostante il sole e un frizzante vento, sono stati più di 700 gli studenti che hanno occupato il centro della piazza per dire stop alla guerra attraverso un momento fatto di interventi, musiche e testimonianze. Un appoggio che i ragazzi delle scuole medie, superiori e licei di Fano hanno voluto dare all'Ucraina. Il momento è iniziato con il brano dei bambini del coro tra le note diretti dal maestro Giorgio Caselli. Voglio la pace, non più la guerra, un giro tondo intorno alla terra. Io non sono sorpreso di vedere i giovani a manifestare per la pace perché i giovani nella storia ci hanno dimostrato che sono sempre protagonisti nei processi di cambiamento, nei momenti di difesa dei diritti della persona e della libertà. Sono sempre stati un esempio in tal senso. Oggi siamo insieme a loro, l'amministrazione vuole essere insieme a loro a far comprendere cosa significa la brutalità, cosa significa l'aggressione, cosa significa mantenere e pretendere la libertà nei nostri paesi e pretendere che i popoli vivano nella civile convivenza. Fra l'altro qui ho un simbolo, il simbolo dell'Ucraina. Me lo sono portato dietro perché l'ho trovato all'ingresso dell'amministrazione comunale, della sede del municipio. Probabilmente qualcuno che l'ha lasciato per lanciare un messaggio e che io l'ho voluto raccogliere. Noi siamo qua per dire no agli aggressori, no all'uso delle armi. I conflitti si risolvono col dialogo e con la diplomazia. Toccanti gli interventi dei vari ragazzi che hanno preso la parola con testi, frasi ed opinioni. Si sente parlare di guerra ormai da anni e forse non è stato fatto abbastanza, ma adesso è arrivato il momento di partecipare, di partecipare attivamente. E il nostro obiettivo è migliorare, andare oltre qualsiasi beneficio che possa andare a favore di qualcuno, di qualcuno che decide per i civili, per le persone che sono innocenti. E quindi a volte è anche inutile forse produrre le stesse armi all'interno degli stati e professarsi pacifisti quando le stesse armi messe in mano a persone possono uccidere vite. In questo periodo abbiamo capito una cosa essenziale. Noi dobbiamo capire, conoscere e riconoscere il passato per non commettere più gli stessi errori e per creare il futuro che vogliamo. Poiché in questo periodo ci siamo anche scoperti fanesi, italiani, ma soprattutto ci siamo scoperti semplicemente umani. E infatti noi umani dobbiamo semplicemente ballare, non dobbiamo tirarci le bombe. Dopo le parole degli studenti, una comunità dell'Ucraina presente alla mattinata ha cantato l'inno del proprio paese e urlato dicendo fine alla guerra. Poi a prendere la parola è stato il Vescovo di Fano Armando Trasarti che ha sottolineato le guerre ancora in atto in questo periodo e rivolto un messaggio ai giovani, infine a ringraziare il sacerdote della comunità ucraina Don Vladimir. Ricordatevi che il voto non sarà qui in piazza, sarà quando sarete a scuola e non sarete né razzisti, né populisti, né prepotenti. E dico anche alla società civile, fare l'inno alla pace va bene, ma quando poi vi riunite nel Consiglio Comunale non vi scannate, perché non credono i giovani. Quando fate il bene di tutti, fatelo con criterio di umiltà, di pazienza, di tolleranza, di verità vista dall'esterno e non per interessi particolari. L'Ucraina usano le armi, i cari armati, che fanno uccidere la gente, i giovani, le mamme, i bambini, i anziani, il popolo, le case, le ospitali, è vero. Ma oggi voi avete usato le armi più grandi, che non uccide, che non spara, che non distrugge, ma che vince il diavolo. Quello che è il capo del male. E oggi davvero voglio iniziare il nome della nostra comunità. Preghiamo, lavoriamo per la pace. E questa pace verrà, perché Dio è il vincitore. Dio ha vinto la morte. Con la sua risurrezione vince il peccato, il diavolo. Viva Ucraina! Viva Ucraina! Viva Ucraina! E adesso vi facciamo ascoltare una dichiarazione, un racconto, la testimonianza di colei che, appena sentito l'odore della guerra, ha preso in macchia la sua figlia ed è scappata. Mi chiami Olga, sono Ucraina. Quando si è iniziata guerra, noi aspettavamo un giorno, due, tre, quattro, cinque, cinque giorni. Sempre scappavamo in, come si chiama in italiano, in bunker, in bunker, a notte, con la pigiama. Allora il mio nipote, figlia, aveva tanta paura, anche io, noi, tutta la gente, in panica. Allora dopo io dicevo, basta, dobbiamo lasciare, dobbiamo lasciare nostra casa e scappare via. Ho preso la macchina, ho preso per due ore, ho preparato la valizza e è scappato via. Allora noi siamo andati, la strada è lunga e dura. Io sono una donna con la mia figlia di 33 anni, perché lei, io avevo paura di dare lei guidare la macchina, perché lei guida però poco. Invece io ho fatto 1900 chilometri per strada con mio nipote che tiene 13 anni. Allora per passare la frontiera dovevo aspettare sei, sette ore. Dopo mi sono fermata ogni tanto per qualche due ore per riposarmi. Però per fortuna sempre dico grazie a Dio che sono arrivata a zona Rimini. E prima cosa che è arrivata vicino Caritas a Rimini, mi è tanto aiutato Don Vittorio di Rimini. Lui mi ha fatto conoscere Don Vladimiro di Fano. Io voglio graziare tanto, tanto, tantissimo a loro. Don Vladimiro ha portato qui a Caritas di Fano. Allora qui abbiamo si trovato molto bene. Voglio graziare tutto il personale di Caritas di Fano. Don Antonio e tutti, e tutti. Perché abbiamo tutto per mangiare. Anche gente italiana ha portato tanto vestito per bambini, perché c'è tanti bambini. Siamo 18 persone. Insieme c'è 7 bambini piccoli. Allora non abbiamo bisogno di niente. Solo preghiamo da Dio che se finisce guerra e basta. E tra gli effetti della guerra sicuramente c'è anche il rincaro dei prezzi che in queste ultime settimane sta davvero facendo preoccupare tantissimi nostri connazionali. E nei giorni scorsi, come Fano TV, come redazione, vi abbiamo fatto sentire un po' le voci dei commercianti, ma anche dei consumatori. Vi abbiamo fatto vedere per esempio il metano che ha raggiunto prezzi davvero stellari. Questa sera invece parleremo del problema del gasolio e che preoccupano un poco i pescatori. Coloro che con il gasolio fanno andare in mare le loro navi, i loro pescherecci. Allora ci colleghiamo adesso con il porto di Fano, dove abbiamo due ospiti. Li saluto subito. Sono il presidente del comparto pesca Tonino Giardini e Alessandro Ciavaglia, comandante. Buonasera a tutti e due. Allora cominciamo dal presidente Tonino Giardini. Giardini, so che queste sono giorni febbrili, nel senso che avete fatto una manifestazione, siete andati nei comandi delle capitanerie di Porto, delle Marche, insomma avete in qualche modo protestato, avete avuto qualche incontro mi pare anche al Ministero. Ecco, ci può fare il punto della situazione in questo momento per capire un po' a che punto siete? Sì, in questo momento tutte le marinerie d'Italia o diciamo il 90% delle marinerie d'Italia sono ferme. C'è un blocco che è scaturito non solo dalla volontà dei pescatori ma anche dalla effettiva impossibilità di andare in mare perché siamo arrivati a dei costi esagerati, mai raggiunti, almeno sono 40 anni che sono in questo settore, non ho mai visto prezzi anche rapportati a 30-35 anni fa. Ormai l'economicità, la sostenibilità economica non c'è più, si ha una perdita quotidiana giornaliera e quindi gli equipaggi hanno deciso di fermare. È chiaro che non vogliono solo fermare, vogliono anche manifestare il loro disagio. Il loro disagio è stato poi il comandante e armatore, Ciavaglia lo dirà, quello che è avvenuto perché lui ha partecipato oggi alla riunione di Ancona. Il disagio noi l'abbiamo portato sui tavoli romani perché abbiamo responsabilizzato il Ministero perché in un evento come questo, in una situazione come questa, un sostegno va dato alla categoria. Ciavaglia, è vero che per far uscire un'imbarcazione tipo ci vogliono, potrebbero volerci anche 5.000 euro di gasolio a settimana? Adesso dipende quale tipo di imbarcazioni, però queste che abbiamo noi a Fano sì, siamo su questi importi, anzi, con i prezzi che abbiamo oggi direi che i 5.000 euro la settimana non bastano. Direi che siamo ormai sui 6.000 solo di gasolio. Ma guardi, oggi abbiamo avuto una riunione in Ancona, purtroppo le tensioni sono forti. In questo momento continuiamo a rimanere fermi, anche perché comunque è difficile uscire in mare. Però ci sono alcune marinerie che magari vorrebbero esaurire il gasolio che hanno già nei serbatoi, perché comunque le aziende, un'azienda costa anche tenerla ferma. Per quello che riguarda l'occupazione, invece per coloro che sono imbarcati, come si dice, c'è il rischio di essere licenziati oppure no? Ma certo, noi per il momento ancora con le aziende abbiamo deciso di rimanere in armamento, quindi di tenere il personale imbarcato, però non so quanto possiamo resistere. Ormai i tempi si stanno stringendo. Su questo è stato uno degli argomenti che abbiamo portato sul tavolo nazionale, cioè quello della possibilità di attivare la CISO a pesca, cioè la cassa integrazione, per permettere ai marittimi di poter avere un sostegno anche in queste condizioni. Oggi il settore è sguarnito di una cassa sostegni ordinaria, quindi ci sono grosse e grosse difficoltà. In più va anche ragionato questo, che l'Unione Europea ha limitato le giornate di pesca, che ormai sono intorno ai 130 giorni di media, secondo delle categorie, e quindi questi equipaggi a volte devono fare spesso, anzi, devono fare reddito per 365 giorni per mantenere gli equipaggi con solo 130 giorni di operatività. Ecco, senta Presidente, per quanto riguarda la massaia che ci sta ascoltando, che domani vuole andare a comprare, visto che è sabato, il pesce al mercato, che cosa possiamo dire a queste persone che, appunto, ascoltandovi, sono preoccupate? Che il nostro pesce non c'è, è che se trova, trova solo prodotto di importazione, visto che ormai il 78% del prodotto che consumiamo in Italia è prodotto di importazione, però i cittadini devono sapere che un piatto su cinque è italiano, gli altri quattro sono, li definirei tarocchi, quindi il consumatore deve essere cosciente che domani non può trovare pesce italiano. E questo, secondo lei, per quanto tempo ancora? Ma, guardi, è difficile stabilire ancora quanto può durare ancora. Certo, noi speriamo nei primi della prossima settimana di avere qualche riscontro da parte del Ministero delle Politiche Agricole di avere qualche riscontro, di qualche sussidio o un sostegno delle azioni dirette e in breve tempo che ci sostengono e ci permettono di riprendere il mare. Però oggi stabilire i tempi è molto difficile, molto difficile. Ma stanno dando soldi a tutti, perché non darli anche al comparto della pesca, voglio dire? Non capisco. Ma sì, esistono dei vincoli che ci derivano da Bruxelles, quindi non ci può essere un contributo diretto sul gasolio. Si sta pensando, come dicevamo, un sostegno alle imprese, il Ministero ha annunciato la messa a disposizione di un fondo speciale, ovviamente a valenza nazionale, di 20 milioni di euro, in più stiamo spingendo sul Ministero del Lavoro per attivare la cassa integrazione, la CISOA. Bene. Allora, grazie ai nostri ospiti. Noi adesso andiamo avanti con il telegiornale. L'aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo in tutti i settori sta, come dicevamo, avendo ripercussioni anche sul mercato ittico. Siamo andati a sentire il parere dei consumatori. In questi giorni abbiamo visto aumentare i prezzi del carburante. In più a questo si aggiunge in questi giorni lo sciopero dei pescatori. Questi fattori hanno fatto sì che anche il prezzo del pesce sia aumentato? Purtroppo sì, soprattutto per lo sciopero che il pesce se ne trova poco e la maggior parte è pesce di importazione o pesce come i gamberetti, roba di congelata e i prezzi sono aumentati, sì, purtroppo anche per noi. Da dove viene adesso il pesce? Ma un po' di importazione, un po' da tutte le parti. Arriva anche pesce fresco, roba croata come soglio, le merluzzi e altre cose. E lo sgombro uguale, roba croata, roba fresca. E dopo importazione, spigole, orate d'allevamento, come... Beh, quello arriva sempre, ecco. La gente acquista ugualmente? Poco, molto poco. Infatti questa settimana c'è stato tanto, tanto calo. Ha visto dei rincari oppure più o meno il prezzo è rimasto lo stesso? Dipende dai settori, sul pesce non ho notato grandi rincari per il momento. Poi benzina non ne parliamo, metano quanto meno? Io sono a metano, viene 4 euro, veniva 0,90 e quindi fai un conto matematico, il 500% di più. E cosa dobbiamo fare? Bisogna girare i vari distributori per vedere dove si risparmia? Sì, in grandi linee è quello si fa. Ho comprato del pesce? Sì, il misso per fare del sugo, per il risotto. Ha speso di più rispetto alle altre volte? No, no, più o meno siamo in linea con i prezzi abituali. Ci sono dei rincari? Almeno non me ne sono accorta, poi non lo so, ho preso soltanto questo ancora, quindi... Poca roba al secondo portofoglio. Si cerca di risparmiare adesso? Eh, per forza, siamo obbligate a risparmiare. Su ordine di mia moglie, un chilo di vongole, detto alla fanese, un chilo de puras. Quanta spesa, come gli altri giorni, un po' di più. Devo ancora pagare se non so esattamente... Non vengo spesso, quindi... Ha fatto solo delle commissioni oggi? Sì, oggi una commissione volante, così comunque... Questi giorni sono anche degli rincari? Siamo in un contesto politico-economico particolare, per cui di conseguenza ne risente anche il pesce. Quindi la situazione non è semplice? No, speriamo nel tempo che le cose migliorino. La neve e anche le basse temperature stanno regalando agli appassionati dello sci giornate davvero divertenti. Oggi siamo andati sul Monte Nerone, in provincia di Pesolo Urbino. La bella giornata del sole va più che bene. Città di Castello. E anche se tra pochi giorni entreremo nella primavera, non è arrivato ancora il momento di appendere gli sci al chiodo, perché qui a Monte Nerone si continua a sciare nel fine settimana e anche nella giornata di lunedì. Grazie alla recente nevicata della settimana scorsa stiamo riuscendo a tenere gli impianti aperti per questo finale di stagione che adesso per questa fine settimana mette tempo buono e quindi si preannuncia un bel weekend. Siamo aperti da oggi fino a lunedì tutti i giorni e poi vediamo in base alle condizioni della neve se continuare oppure vediamo. Vengono un po' dall'Umbria, dalle Marche, anche la Romagna. Noi abbiamo cinque piste, ne abbiamo due rosse e tre blu, più il campo scuola Area Bob. All'interno abbiamo anche uno snow park e un tracciato di sci da fondo che batteremo appena ci saranno le condizioni. Ormai quest'anno forse le condizioni non ci saranno più, ma comunque appena ci sono le condizioni quello verrà aperto. La lunghezza delle piste varia dalla più corta che è questa qua davanti al rifugio che vediamo è di circa un chilometro fino a due chilometri e mezzo. Allora noi abbiamo uno ski pass giornaliero che costa 22 euro oppure abbiamo il mattutino e il pomeridiano. E poi c'è l'Area Bob Sdittini che costa il giornaliero 10 euro. Per chi non scia c'è la possibilità di fare ciaspolate oppure delle belle camminate all'interno delle nostre faggete che sono sempre molto suggestive. O da buoni italiani anche mangiare al rifugio Chalet Principe Corsini che è sempre aperto durante la stagione invernale con gli impianti aperti ed estate, giugno, luglio, agosto sarà sempre aperto. Fine settimana e festività comprese. Dopo la tappa di oggi da Sefro a Fermo domani sabato la Tireno Adriatico di ciclismo attraverserà il Pesarese da Apecchio a Carpegna di 213 chilometri che raggiungerà i 1367 metri del Monte Carpegna. Nel percorso il gruppone passerà ad Apecchio, Piobbico, Fermignano, Forsombrone, Cartoceto, Mombaroccio, Urbino, Lunano, Frontino prima di arrivare al Carpegna e poi scendere in paese a 746 metri sul livello del mare. Infine domenica prossima la carovana affronterà la settima ed ultima tappa di 159 chilometri con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Vi ricordo che lunedì prossimo a Primo Cittadino qui su Fano TV ci sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci e come già avete notato sicuramente dalla grafica da martedì 15 di marzo Fano TV cambierà canale lo troverete sul 19. Questa è la comunicazione ufficiale definitiva che ci ha dato il Ministero dello Sviluppo Economico. Bisognerà fare la risintonia dei canali ma come sempre siamo a vostra disposizione per darvi eventuali ragguagli e anche darvi una mano perché no stiamo spiegandovi un po' quello che c'è da fare ma comunque tutto molto semplice quindi dal 15 di marzo passeremo sul canale 19. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie. Grazie.